Essere o apparire. Sorrido perché so per cosa combatto. A me è stato proibita la sensazione di essere all'altezza di questo mondo. Mi è stato tolto da sotto i piedi. Quella frase l'ho rappresentata appunto con delle scarpe ortopediche che rappresentano che comunque c'è sì una persona che cammina su quelle scarpe che anche se non segue la moda però che non ha uno stereotipo ben preciso però ha comunque un'intelligenza, un'anima. Fotografie per tradurre in immagini i pensieri, anzi i lampi di pensiero come li hanno chiamati loro. E' nata così la mostra fotografica di Melania Russo, 21enne, nata a Napoli ma residente a Castiglion Fiorentino inserita nel progetto Viva, ossia vita indipendente in Val di Chiana. Il progetto nasce inizialmente con i ragazzi della casa di Pinocchio che hanno realizzato questo blocchetto che all'interno ci sono questi lampi di pensiero e loro un giorno mi hanno chiesto di leggere questo libro e da lì abbiamo cercato di tra virgolette progettare le foto. Ogni persona, ogni utente del centro ha espresso quello che poteva essere un pensiero, un'idea, un sogno. Da qui Melania poi ha riportato a livello fotografico quello che era l'esperienza. Gli scatti di Melania hanno così trasformato in immagini i pensieri dei ragazzi della casa di Pinocchio, giovani e disabili dei comuni della Val di Chiana. Loro hanno una grande capacità intellettiva, emotiva e anche di sentimento. E poi volevo rappresentare che comunque la disabilità alla fine è un tema ad oggi giorno molto frequente e non volevo che le persone si fermassero al primo impatto. Ed adesso 12 degli scatti di Melania fanno parte della mostra itinerante Mettici la foto a Foiano della Chiana. L'incontro con Melania è stato un incontro casuale, me l'ha presentata un mio amico di Foiano che ha le problematiche di Melania e io sono rimasto affascinato dall'idea che lei ha avuto e questi lampi di pensiero avevano riportato in fotografia.